Intercede, guarisce, salva e converte. Carla Cutis è stato dichiarato beato il 10 ottobre del 2020. È morto nel 2006 a soli 16 anni a causa di una leucemia fulminante. Considerato il patrono di internet, Carlo è il primo santo ad avere avuto un profilo Facebook attraverso il quale ha dato la testimonianza della sua profonda fede. Carla Cutis, il santo dei millennial, è amato e venerato da milioni di fedeli in tutto il mondo. I segni che ha compiuto durante la sua vita e dopo la morte sono numerosissimi. Il 23 gennaio del 2019 il suo corpo è stato trovato incorrotto durante la ricognizione canonica sulle sue spoglie mortali. La salma vestita con i semplici indumenti di un ragazzo di 16 anni, scarpe da tennis e tuta, è esposta al pubblico. Nell'ultimo periodo della sua vita, la madre Antonia gli ricordava spesso di chiedere a Gesù di compiere miracoli eucaristici simili a quello di Lanciano, così che fosse evidente a tutti la presenza di Gesù nell'ostia consacrata. Dieci giorni dopo dalla sua morte, in Messico a Tixla si è verificato un incredibile miracolo eucaristico e poco tempo dopo altri due miracoli eucaristici si sono ripetuti in Polonia, a Sokolka e Legnica. Questi miracoli sono stati studiati e analizzati da eminenti esperti che hanno constatato, dopo approfonditi studi, come in tutti e tre i casi l'ostia consacrata si sia trasformata in tessuto cardiaco umano. Il 12 ottobre del 2013, nella chiesa brasiliana di San Sebastiano, era in corso una benedizione con una reliquia di Carlo Acutis, un pezzo del pigiama macchiato di sangue con cui il giovane beato aveva dormito poco prima di morire. Mateus, un bambino brasiliano di sei anni, affetto da pancreas anulare, una terribile malattia che gli impediva di mangiare e bere normalmente, causandogli continui conati di vomito, stava partecipando alla funzione religiosa. Il suo stato di salute era precario, la malattia aveva debilitato il suo fisico, a tal punto che si temeva per la sua vita. Arrivato il suo turno nel toccare la reliquia, il nonno gli suggerì di chiedere la grazia e così fece. Ritornato a casa, in maniera del tutto inaspettata, il piccolo smise di rimettere dopo aver mangiato. Gli esami diagnostici a cui si sottopose rivelarono la totale scomparsa della malformazione. Il pancreas era tornato normale e aveva riacquistato tutte le sue funzionalità. In poco tempo riacquisì il peso perduto e si riprese completamente. La guarigione istantanea, completa e duratura, è stata ritenuta inspiegabile dalla consulta medica della congregazione delle cause dei santi. Il 21 febbraio 2020, Papa Francesco ha riconosciuto il miracolo, Carla Cutis è stato dichiarato beato e presto diventerà santo. La vita di Carla Cutis è stata benedetta dalla santità. Fin da piccola ha mostrato una profonda fede che ha contagiato anche i suoi stretti familiari. Innumerevoli sono le opere di carità che ha compiuto nella sua breve vita e innumerevoli sono i segni dopo la sua morte. Sempre più persone affidano le proprie preghiere alla sua intercessione e sempre più spesso si leggono notizie di uomini e donne che hanno ricevuto grazie. A Cutis è il primo santo di quella generazione nata intorno agli anni 2000. Un santo giovane, moderno, che è riuscito in breve tempo a entrare nei cuori dei fedeli. A Cutis è il primo santo giovane,